Il cutoff rilancia a 4.800 su cui 1.000-2.000, io da Small Night faccio 13.200, lui ha circa 150 e fa 32.000, io ho 102 e push one in 102 con 10.48. E lui ha il suo cappa di giro, però passo da un 9 tutto di cuore, io sono 4 di cuore, lui ha il suo cappa di giro. Grazie, grazie.